. Soleil Stasi torna a parlare della storia con Luca Onestini e svela che lui è… ecco l'indiscrezione foto. . Luca Onestini è entrato felice ed innamorato nella casa del grande fratello ma dopo qualche settimana ha ricevuto un'amara sorpresa, la fidanzata, Soleil Stasi, ha iniziato a frequentare l'ex tronista Marco Cartassegna e ha lasciato Luca, accusandolo di essersi precedentemente sentito con la sua ex corteggiatrice Giulia Latini. . Soleil non si è mai confrontata di persona con Luca e la storia è finita così, con una lettera scritta da lei e consegnata ad Onestini, che l'ha bruciata. . Nel frattempo in casa scoppiava un piccolo caso, a quanto pare Cecilia Rodriguez era stata informata, prima che cominciasse il GF VIP, che Luca avrebbe lasciato Soleil durante la sua permanenza in casa. . La cosa, che poi si è ribaltata, sarebbe quindi stata orchestrata dai due fidanzati per ottenere più visibilità. . Ora Soleil, rispondendo ad un commento su Instagram, avalla questa ipotesi. Una fan scrive, ma veramente ancora non l'avete capito? Luca l'avrebbe lasciata comunque nella casa del GF. . . Lei non lo sapeva. . Ed ha giustamente capovolto la situazione. . Per qualche motivo questa cosa non la comprendono in molti, ha commentato Soleil. . Stando a questa versione dei fatti, Cecilia avrebbe avuto ragione e Onestini avrebbe architettato di lasciare Soleil in diretta, per poi vedersi la cosa rigirata a suo sfavore, alcune cose però non tornano. . Ad esempio, Luca si è mostrato sempre innamoratissimo di Soleil fino all'entrata in casa di suo fratello Gianmarco che lo ha informato di tutto, non stava quindi preparando il terreno per lasciare la fidanzata. . E ancora, perché Soleil non ha dichiarato pubblicamente di aver scoperto questo imbroglio? . Per ora il mistero sulla questione Onestini sorge non si chiarisce, anzi si fa ancora più fitto e... . 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